La Serie D torna subito in campo dopo le fatiche del turno infrasettimanale. Non ci sono derby abruzzesi ma tante sfide dalle quali possono passare i destini di classifica in vista del rush finale di 2018. In ordine di graduatore il notaresco terzo va in trasferta dopo il successo colpineto di mercoledì. Lo farà a Monte San Giusto contro una san giustese che vuole rimanere agganciata al treno playoff e rinfrancata dal successo esterno con la San Maurese. Nel notaresco invece mancherà per squalifica il bomber Santiago Minella, ma Cudini non ci pensa troppo. Perdiamo Santiago per diffida e ammunizione quindi squalifica però abbiamo altri elementi dove possono dare il loro apporto come abbiamo visto oggi e sicuramente faremo la nostra partita anche là, al di là dei Minella in campo oppure no. Il presidente Di Giovanni non vuole guardare troppo oltre ma con la finestra di mercato alle porte sognare è più che legittimo. Chiaro che adesso abbiamo altri 3-4 partite, dopo di che valuteremo il da farsi perché è chiaro che potremmo anche approfittare della finestra di mercato però non lo so, ci dobbiamo comunque sedere ancora col mister e con il direttore sportivo dopo di che valuteremo. Il Francavilla invece deve rialzarsi dopo aver sciupato l'occasione di strappare un risultato positivo sul campo della capolista matelica. A Forlì dopo il cambio tecnico, protti per Campedelli, la solfa non è cambiata molto. Mancherà nei giallorossi Caffiero dietro dopo il rosso nell'infrasettimanale ma uno tra Bosco, Favorito e il Giovane Gallo dovrebbe piazzarsi accanto a Nazari. Stanno in difficoltà e queste sono proprio le partite più difficili da andare a fare. Ripeto, sul loro campo con un allenatore nuovo ci terranno a fare bene però noi dobbiamo comunque cambiare qualcosina in trasferta per raggiungere quelle posizioni importanti che secondo me possiamo raggiungere. La partita più affascinante della tredicesima giornata però è al Mariani Pavone di Pineto dove i biancazzurri di Amaolo cercheranno il riscatto contro Cesena vicecapolista. Il Pineto ritrova a centrocampo Fortunato che potrebbe riprendersi il posto a scapito di Amadio. L'occasione è ghiotta perché di fronte c'è un Cesena che seppur con un Danilo Alessandro in forma smagliante davanti non avrà Ricciardo Infortunato e l'Ori Storto riespulso nel posticipo con la Savignanese. Il Cesena di per sé è già uno stimolo. Per noi sarà una partita dove dovremmo riscattare questo brutto secondo tempo di Notaresco. Dopo due partite senza segnare il Giulianova invece proverà a rompere il digiuno offensivo al nuovo Romagnoli di Campobasso. Giallo-Rossi senza foro, probabile l'impiego di Frulla al suo posto ma con la consapevolezza che i molisani dietro concedono qualcosa. Opportunità per Tozzi-Borsoi di Palo e Mangiacasale, le bocche da fuoco di un Giulianova che vuole ricominciare la marcia positiva dopo due gare non esaltanti. Secondo me forse abbiamo creato troppa tensione rispetto a come sta andando il Giulianova per la classifica che sta tenendo. Dopo il pari ha ciuffato a tempo quasi scaduto una vastese falcidiata dalle squalifiche affronta la seconda gara interna contro il Montegiorgio. Montani sarà senza D'Alessandro, Napolano addirittura fuori per tre gare e Leonetti. Già abbiamo una rosa diciamo ristretta. Adesso abbiamo avuto purtroppo capita che a volte si può perdere la testa. Anche se io non parlerei su qualcuno di noi di perdere di testa ma di una fesseria dell'arbitro perché ha fatto una cosa secondo me stranissima per non usare un'altra parola. Però andrà così. Infine l'Avezzano dopo la buona prova contro il Forlì l'esame per capire se il momento buio è alle spalle e domani al Carotti di Iesi. I Leoncelli sono un cliente scomodo ma Giampaolo potrebbe aver ritrovato la vena migliore di Cerone Dos Santos, due da cui potrebbero passare le sorti presenti e future dei Biancoverdi.